Ciao a tutti, il giocatore di Subutio Tertano Marco Perotti farà il torneo 7 colli di Subutio Tradizionale questo torneo si terrà domenica 4 dicembre alle ore 9 e mezzo presso il centro sportivo in miniatura a Roma è un torneo di Subutio Tradizionale organizzato dalla Federazione Italiana di Calcio da Tavolo sezione del Lazio e il nostro portabandiere, il nostro portacolori che spesso scende in campo con miniature della Ternana una squadra di Subutio della Ternana e con sciarpa delle fere cercherà di fare una bella figura, cercherà di fare la sua migliore prestazione in questa fase finale di questo delicato torneo che comunque è un torneo al quale parteciperanno giocatori molto forti nel campo del Subutio sul panno verde e staremo a vedere come finirà